Quinto appuntamento di QOS 2012, il ciclo di eventi culturali dell'Istituto Quasar con i principali protagonisti del panorama artistico oltre il contemporaneo, giunto alla sua seconda edizione. Un viaggio volto a esplorare le possibili interazioni tra discipline diverse e a svelare i segreti di un fare che è nello stesso tempo tecnico ed estetico. Protagonista del quinto incontro è l'architetto e pittore Silvio Pasquarelli, che con la lecture Paint Concept Area ha illustrato i diversi passaggi del processo creativo, evidenziando come la manualità artigianale si integri con la tecnologia digitale. Pasquarelli in particolare ha preso in esame le immagini dei calendari in area, importante strumento di comunicazione dei valori dell'azienda ideati da Antonio Romano e di cui Pasquarelli è direttore creativo. Farò vedere un po' il backstage di questi calendari, dare delle immagini della manualità che sta dietro a queste immagini, anche se sono riprese in modo elettronico. Farò un escursus degli esempi più interessanti e avendo davanti delle persone che poi faranno questo lavoro darò delle indicazioni tecniche su quello che può essere il lavoro. Farò cercando, prendendo spunto da questo per sollecitarli a recuperare una cultura manuale, un rapporto con la materia, vedere un po' con le mani. Come è cambiata nel tempo il suo approccio artistico, la sua produzione? Come è arrivato ai calendari? I calendari sono stati ideati, sono una creatura di Antonio Romano che è il presidente di in area. Con Antonio Romano ci riconosciamo da tanti anni, dunque è un'amicizia che si è poi ancora di più confermata con questa collaborazione. C'è questo scambio tra manager creativo, tra pixel e pennarello. Cerchiamo all'interno delle regole che ci siamo dati di mantenere questa linea, visto che poi si rivela vincente perché hanno in dubbio successo. Se dovesse dare un consiglio a uno dei giovani studenti che incontrerà oggi? Di sporcarsi le mani, di scoprire con le mani, con la manualità, come dire, essere, vedere ed essere curiosi con le mani. C'è qualche progetto che le frulla in testa e che ci svela che è all'orizzonte? Il mio progetto è quello appunto di guadagnare proseliti sulla manualità, per recuperare un artigianato non nostalgico. Sono abbastanza curioso ancora di vedere quello che potrà venire fuori da questo incontro. Sottoscrive quindi un po' l'idea che corre sotto il progetto QoS di commissione tra i generi, di andare oltre le etichette? Assolutamente, assolutamente. Proprio le potenzialità che c'è la rete di metterci in contatto contemporaneamente con tante realtà, allora proprio per non essere poi sopraffatti da un effetto betoniera, da un effetto di blob, di tutto quanto, allora penso che se ognuno riuscisse poi a individuare degli ambiti di reciproca può poi farsi ricco di queste potenzialità, ma può integrarle avendo poi lui metabolizzato tutta questa informazione, perché poi si dicono tante cose, più cose si dicono, meno cose si ascoltano. Dunque è una questione proprio alchemica, se vuole, proprio di rivedere le pozioni, che vanno tutte bene, soltanto che vanno riequilibrate, vanno rimodellate, perché sennò poi, come dire, il fantasma o l'apocalisse dell'omologazione poi vincerà. Dunque dobbiamo, non dico contrastarla, ma affrontarla in modo concreto con altri strumenti che vanno a integrare questa tecnologia che è stupenda, che io uso, ma convive con i miei colori, i miei pennarelli, i miei fili di ferro, i chiodi, i martelli e quant'altro.